o giulietta giulietta comunque laura siamo siamo invitati a cena preparati ci hanno invitato follower di brusselli di brusselli del beggio stasera stasera siamo stasera stasera siamo a pesce perché da pesce e ghianga perciò sono a mangiare pesce e non fa tempo se mangiare ma che lo santo no? chi fa lì? chi fa lì? o ganni o pesce l'importante è una scena allora si provano a fare l'anfita a mia però a mio marito che fa non ne soffluisci? è normale che fai? chi fa lì? scusa magari se lo mangiare? ma non ha meglio non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente scusa se ti prendo un raccomando ma la posso salutare a tua moglie o sei mascherista? veramente la posso salutare a parlare con mia va bene se tu pari con mia poi la faccio salutare prima pari con mia io saluto la mia amica va bene va scendendo? certo ma quando vuoi scenderemmi rapidi sta botta? ma quando ci siamo nella strada non c'è fuori la botta no 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 trasi trasi certo